Musica Tire velocemente con Antenucci che supera il cerchio centrale di centrocampo. Vai Mirko, attacca Mirko in profondità per Chedira. Chedira in area di rigore, il tiro di Chedira. La risposta di Donnarumma, pallone sull'intervento di Curcio, punizione già battuta. Maier in posizione centrale, in profondità ancora per Chedira. Chedira il tocco superare il portiere, va giù Chedira, lascia proseguire il direttore di Garlano. Insieme alla luce miliana va centralmente per Berlusini, Ceravolo. Occhio a Ceravolo, saldo in dribbling di Cesare. Il tocco per Curcio, la conclusione potente si distende. Caprille sulla sua destra, il tiro per Caprille, lungo Caprille. Colpo di testa, sbagliato da parte di Gasparro, può ripartire che tira sulla sinistra. Saro, metti in giro del motore, Giacomo Ricci, alza la testa Ricci. La sovra posizione di Folo Ruscio, sventagliata dalla parte opposta per Botta. Il mancino di Botta, gol! Ruben Botta, un gioiello, quello del trequartista. Argentino, all'ottavo minuto di questo primo tempo. Da destra, tiro in giro, pallanella il sette. Donnarumma fermo, prodezza di Ruben Botta. La sblocchiamo subito noi con la fantasia, con l'attualità, con la giocata. Con il di Cesare che guarda a vista, Ceravolo si avvicina anche i vicari. Cuccio con il mancino, centralmente per il numero 11 Dezzi. L'1-2 con Ceravolo, prova la confusione, Ceravolo. Porto in 30 metri, provo a sfruttare gli errori del Padova, come in questo caso. Maita, la semina e Botta, Botta lancia, che tira, che tira, che tira. Limitellana, che tira, in area di nuore, che tira, il tiro. Goal! Che tira al sedicesimo, pari due, Padova al zero. Ancora, geniale, l'assistino, però, puntata di Ruben Botta. Bravo, bravissimo, lo ha detto, che tira. a bruciare per l'ennesima volta l'impegno del Padova, a correre tutto. Franchini per la conclusione, con il pallone di termini. L'inquilità anche di Michael Foloruccio ci mancava, uno con quelle caratteristiche. Mancino, parte il sinistro di Cuccio, è una grandissima, grandissima parata. Nuovamente la prestazione di Caprile, la prestazione di Foloruccio. Intanto però, attenzione, perché il Padova attacca, lo va sulla sinistra. Dona Maida che deve andare a coprire, proprio sull'entrato, il numero 27. Tira al denno e Caprileccio Nassi. Dietro le punti, dentro. Diccio il nome, Cristiano Gallagher. Cucino, scatta in profondità di Mallamo, sempre sulla destra. Questo l'adversario di Mallamo la tiene, poi riesce a corsare per l'uomo. Il secondo paolo c'è Enrico, se la porta sul destro. Donna Lumba e c'è il golle, c'è il golle di Walid che tira. Sono tre, c'è il letale. Il terzo, Josigla, qualifica e tira. Doppietta per lui, al primo dei cinque minuti di reputazione. Rampalla, quella di Mallamo, vero per l'uomo. Per l'uomo, per l'uomo. Allora, provata a staccare il testo, poi sa l'altezza del dischetto. Per l'uomo è terminato. Il piede, il pego, un tiro, con la ruma, la tentazione di maniera pericolata. E c'è il fisco del direttore di gara, finisce qui. E vinciamo noi con un netto 3 a 0. Vi mostreremo anche quelle che saranno le luci dei protagonisti. E anche le immagini dei doni.